L'arte in questo caso arriva da Arinzano a rappresentare questa azienda, è la signora? Silvia. Il nome corretto dell'azienda è? Allora, l'azienda è la Painting Velvet, la linea della Color Velvet è una linea creativa esclusiva della Painting Velvet che nasce giusto giusto per supportare, per fare in modo che il lavoro dell'azienda sia completo a 360 gradi perché la Painting si occupa normalmente di floccatura, quindi... Abbiamo visto tanti colori perché questo ovviamente è il vostro lavoro, ma soprattutto un grande entusiasmo da parte dei bambini. La vostra mission per parlare come dicono i moderni oggi, qual è? Noi portiamo il sorriso e mi creda se sta qua a 5 minuti se ne rende conto perché non solo i bambini ma anche le persone più grandi, se noi chiediamo signora venga vuole colorare, che è la frase tipica, ma anche solo a vedere i pennarelli con tutti questi colori già spunta un sorriso. Cosa hanno di speciale questi pennelli? Sono assolutamente normali, sono pennarelli normali, è il prodotto della Color Velvet che è particolarissimo perché è velluto e che permette di colorare all'interno di spazi ben delimitati su una carta speciale che si può colorare con qualunque tecnica, dagli acquerelli alle matite colorate è divertentissimo con i pennarelli, però si può sperimentare qualunque tipo di tecnica di colorazione e il risultato comunque è sempre perfetto sia per via della carta che è una carta speciale sia per via del velluto che delimita gli spazi, quindi crea delle campiture nette su cui intervenire con un risultato che è sempre perfetto. Il risultato finale si può ammirare anche in quella parete davanti a noi, ma soprattutto i vostri prodotti si possono trovare dove? A Renzano, via Piammasino 55D, praticamente la zona industriale di Renzano che sta al limite tra Renzano e Cogoletto. C'è anche un riferimento in rete? Sì, abbiamo una paginetta Facebook divertentissima dove potete trovare tutte le creazioni che man mano che fanno le persone ci inviano e poi c'è il nostro sito che lo stiamo ultimando, stiamo per ultimare un sito di e-commerce che venderà in Italia e anche all'estero che è il www.colorvelvet.com Buon colore a tutti! Grazie mille, arrivederci!